Ciao bimbi! Oggi ho pensato di realizzare con voi un bellissimo coniglietto di Pasqua. È veramente molto molto semplice da creare e abbiamo bisogno di pochissime cose. Vediamo subito cosa ci serve! Abbiamo bisogno di un cartoncino a 4 e della sagoma di un coniglietto da applicare al centro del cartoncino. Io vi consiglio per tenerlo fermo di utilizzare dello scotch di carta e non dello scotch normale perché altrimenti poi quando andremo a rimuovere la sagoma resterà il segno dello scotch. Poi ci serve della colla e un pompon da utilizzare come coda del nostro coniglietto, delle tempere, io ho scelto tre colori e infine come pennelli utilizzeremo mollette e cotone. Incominciamo subito! Ho posizionato i miei pennelli, o meglio le mie mollette con il cotone, all'interno del colore e ora finalmente posso incominciare a colorare! Ho posizionato i miei pennelli, o meglio le miei pennelli, o meglio le miei pennelli, o meglio le miei pennelli! Eccoci qua, bimbi! Una volta completato il nostro disegno, ottengo un risultato simile a questo. guardate che bello! Solamente quando sono soddisfatta del risultato posso andare a togliere la sagoma del coniglio e ecco qua! Avete visto che bello? Intanto anche la sagoma del nostro coniglietto sarà veramente bellissima! Ora, come ultimo passaggio, vado a prendere la colla, ne metto un goccino sul sederino del coniglio, prendo il mio pompon e creo la sua codina. Eccoci qua! Buon lavoro, bimbi! E soprattutto buona Pasqua! Ciao!